Show di Matteo. Draghi è una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti. È il giorno del vincitore. Matteo Renzi guida la delegazione di Italia Viva, Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova e Davide Faraone. Alle consultazioni a Montecitorio con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. Si gode il successo politico. Arrivato al termine della lunga crisi di governo. Culminata con le dimissioni di Giuseppe Conte. Renzi è in palla. Decide lui il numero. Massimo due. Di domande da parte dei giornalisti. Scherza con il capogruppo dei senatori IV Davide Faraone. Si autocelebra come «modello per le future generazioni». Al termine delle consultazioni si lascia andare a un siparietto con i cronisti. «Io sono rilassato. Abituatevi a non vedermi più. Ci vediamo nel 2023». Tira giù la mascherina. «Volete vedere come sto? Ecco il mio sorriso smagliante». Dice prima di essere richiamato all'ordine da un assistente parlamentare. Dicono che IV non sarà più rilevante? Ne sono entusiasta. Il leader IV gongola per il nervosismo che trapela dagli ambienti vicini al segretario Dem Nicola Zingaretti. Anche se da una ricerca condotta da Spin Factor di Tiberio Brunetti Renzi risulta ultimo nella classifica che registra il sentiment positivo nei confronti dei leader. All'ex numero uno della BCE la delegazione IV non consegna alcun suggerimento. «Ma la semplice rassicurazione. Noi siamo al tuo fianco. Un via libera incondizionato al governo Draghi. Mi auguro che tutte le forze politiche esprimano lo stesso sostegno a Draghi. Chi pone veti non fa solo un errore politico ma rifiuta l'appello del Presidente della Repubblica. Colloquio breve. Mezz'ora. Pochi punti programmatici. Senza richiesta di ministri? Gli manderemo tutto il nostro materiale e ulteriori elementi».